E' stata approvata la candidatura di una proposta progettuale in forma aggregata di Castellabate con altri comuni per poter ottenere dei fondi istituiti dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per valorizzare e promuovere i comuni siti unisco. Castellabate infatti partecipa con il Comune di Ascea, Capaccio Pestum e Padula per la rispettiva promozione turistica del Borgo Capoluogo, i siti archeologici di Velia e Pestum e la Certusa di Padula. Tale progetto mira a rilanciare il settore turistico che negli ultimi anni è stato fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica. Il Comune di Castellabate, sito unesco, vanta un patrimonio storico, culturale, naturalistico, meritevole di un intervento di promozione e valorizzazione turistica volto alla totale ripresa di tutte le attività turistico-culturali ed economiche locali post-pandemia. Siamo tutti consapevoli del valore e dell'importanza del patrimonio di cui Castellabate gode. Questo progetto permetterà di ottenere dei fondi da destinare al settore turismo, così duramente colpito dalla pandemia negli ultimi anni. Sarà così possibile programmare ed investire in modo puntuale in azioni ed interventi mirati alla ripresa totale del settore turistico, nonché alla ripresa economica di tutti gli attori in esso coinvolti, afferma il sindaco Marco Rizzo.